Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Un ane difficile che è di Eric Toledano e Olivier Nakash che abbiamo qua il piacere di accogliere insieme ad Andrea Romeo di iWonder, benvenuti. Allora Olivier è regista, sceneggiatore, il vostro film è stato selezionato nella sezione fuori concorso ed è qui un'anteprima internazionale, è prodotto in Francia da Quatre Films, Tens Cinema, TF1 Studio Productions e Gomo France che è anche distributore ed è uscito in sala il 18 ottobre, siete in piena tournée e è un lavoro al quale tornate al cinema dopo un lungo periodo di serie tv en terapie e volevo sapere se questo modo di trattare una tematica difficile di attualità, anzi più di una perché il clima, l'iperconsumismo, l'impoverimento, la precarietà dei giovani sono tutte tematiche molto impegnative e il trattarli attraverso la chiave della commedia, volevo sapere se è un modo per guardare le cose in modo come ingrandendole, come attraverso una lente d'ingrandimento per vedere degli aspetti della società e l'altra cosa che volevo sapere è se c'è un'ispirazione in questa commedia alla commedia all'italiana, se è qualcosa che vi ha parlato. sì, c'è fort, sì, totalmente. Allora, già, io devo dire che ci siamo arrivati all'Italia e che sono molto felice di essere qui, di essere in Italia. Allora, io sono felice perché il mio collega con cui partage tutto durante 30 anni non è qui non puo venire ma ragione domani a Milano e ci siamo molto felice di fare questo tour di una settimana in Italia per molte razioni, già per Andrea, perché è un produttore, un distributore per cui abbiamo molto respecte e per fare e per l'honneur anche al fatto che il è sélectionato e che il ha voluto distribuire il film e, tu me dici, io sono troppo lungo, va? E anche questo film è un'anno difficile. Allora, on le dì a ogni film che si chiede a la commedia italiana, ma quello ci ancora più, ancora più perché è che, con eric, ci siamo incontrati quando avevamo 16 anni e ci siamo incontrati intorno a dei film di la commedia italiana. E gli film che ci hanno forzato, le fanfaron, noi ci siamo tant amati, e di altri ancora, on li revoi tutti i 3-4 anni. E l'agge avançant, anche se si chiede, anche se si chiede, abbiamo sempre 20 anni in nostra tessera, ci si ci si chiede qualcosa. Le comedia italiana, gli grandi maîtres del cinema italiano, e ancora adesso, avevano il don di prendere in flagrant deli loro epoche con questa elegance che è la comedia. Per noi la comedia è un po' di côté, è una elegance per parlare con leggerità di problemi societa compliqui, senza omettere la difficoltà di questi problemi. E c'è vero che noi non vogliamo fare passare dei messaggi, non vogliamo fare passare dei messaggi, ma in tutto caso, il si trovo che l'emotione, il rire è un'emotione e ci permette potrebbe, potrebbe, ai spettatori, di guardare i problemi un po' differente e di debattere ensuite. Innanzitutto, sono appena arrivato in Italia e sono davvero felicissimo di essere qui, un pochino infelice perché il mio amico Eric mi raggiungerà soltanto domani a Milano per iniziare questo tour di un'intera settimana nel vostro paese. Sono felice per diversi motivi, il principale è poter condividere questo tour con Andrea Romeo, che è uno straordinario produttore e distributore per il quale io nutro un profondissimo rispetto e che ha scelto appunto di distribuire questo film. Film che è indubbiamente molto debitore della commedia all'italiana, più di quanto non fossero i nostri film precedenti. Io e Eric ci siamo conosciuti che avevamo 16 anni e ci siamo conosciuti proprio scoprendo i film della commedia all'italiana che ci hanno in qualche modo strutturato e forgiato. C'eravamo tanto amati, il sorpasso e tante altre opere che con il passare degli anni scopriamo perché veramente i maestri del cinema italiano di quell'epoca avevano un dono particolare. Il fatto di cogliere in flagranza di reato tutta una serie di vizi e di problematiche della società dell'epoca e trattarli con un'eleganza, una leggerezza che è proprio quello che il genere commedia consente, quello di fare una sorta di passo a lato e di trattare quindi temi molto complessi senza negare la difficoltà di queste tematiche ma consentendo anche una gamma di emozioni molto ampia tra cui il riso perché il ridere fa parte delle emozioni umane e questo permette agli spettatori proprio di fissare lo sguardo e poi di riflettere sui temi della società. Mi faccio ancora una domanda poi vediamo se ci sono domande, però alla base non c'è all'origine, alla genesi, non c'è una scelta di tematica, qual è l'ispirazione che vi fa partire su di un progetto? Sì, allora, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a provoqué, il y a, il y a provoqué je pense chez beaucoup de créateurs, un, un traumatisme et des changements. On était en train d'écrire un film et quand on s'est retrouvé en confine, au premier confinement, on avait l'impression que ce qu'on, ce qu'on écrivait c'était devenu obsolète, qu'on n'était plus en train de parler de notre société et quelque chose changeait. Et on, on a modifié ce qu'on était en train d'écrire parce que ça nous travaillait, alors on n'avait pas envie de faire un film sur le covid, mais en tout cas, ce moment de pause où le monde a été mis sur pause, il se passait quelque chose. Et donc, ça nous a beaucoup questionnés. On a été questionnés par plusieurs images, ce moment de vide, Paris vide, enfin les villes, j'imagine que toutes les villes, ce moment où mondialement on a vécu cette pause, ça nous a questionnés, ça nous a percutés et certaines images nous ont marqués. Peut-être que vous avez eu la même chose aussi en Italie. Je crois que oui, mais les gens sortaient le soir applaudir les personnels soignants à heure fixe. Ce sont des images qui nous ont percutés et on s'est posé beaucoup de questions. Et on s'est dit, c'est on s'est mis à réfléchir sur les parallèles et les paradoxes entre le plein et le vide. Et du coup, l'hyper consommation, vivre mieux avec moins. Ces deux pôles là, comme ça, ça nous a vraiment questionné. Et on s'est dit voilà, on va essayer de mettre premièrement en contradiction ces plus et ces moins. Donc ces personnages plus et ces personnages moins. C'est plein et c'est vide. Ces appartements pleins, ces appartements vides. Et on va essayer d'aller à la rencontre de ces personnages là. Qui sont les gens qui veulent rentrer les premiers dans un magasin pour le Black Friday? Pour quelles raisons? Et qui sont ceux, ces jeunes militants qui les empêchent? On s'est dit bah, on va travailler là dessus. Et c'est comme ça que c'est avec, en plus, l'idée de faire une comédie. Sicuramente il Covid a avuto un ruolo molto importante. Ha provocato uno shock et un trauma in tante professioni creative, non soltanto nei cittadini di tutto il mondo. Et a senz'altro generato delle riflessioni e dei cambiamenti. Il primo lockdown ci a sorpresi mentre stavamo scrivendo un altro tipo di sceneggiatura e improvvisamente ci siamo resi conto che la storia che volevamo raccontare era diventata obsoleta a un tratto perché non rifletteva la contemporaneità di quello che stava vivendo la nostra società. E quindi in sostanza abbiamo capito che era importante cambiare quello il nostro progetto. L'abbiamo sentita proprio come necessità pur avendo ben chiaro fin dall'inizio che non avremmo mai fatto un film sul Covid. E questo momento di pausa, di vuoto, di sospensione dalla realtà e dal tempo che tutto il mondo ha vissuto ha portato anche noi, come tanti, a riflettere su tante tematiche e a metterci in discussione, a capire a che punto è il genere umano. E in più ci sono state una serie di situazioni, di immagini che ci hanno colpito, immagini che probabilmente avete vissuto anche voi in Italia, come quando la sera la gente usciva sui balconi per applaudire tutti i curanti che si occupavano appunto di prestare soccorso alle persone affette dalla pandemia. E nel porci tutta una serie di domande abbiamo cominciato a riflettere sulla dicotomia che esiste in tantissimi paesi e in tante società tra il troppo pieno e il troppo vuoto, per così dire, tra l'iperconsumismo da un lato e chi invece sceglie una decrescita, chi sceglie di vivere meglio con meno cose. E ragionando appunto su questa posizione antitetica abbiamo cominciato a riflettere su che cosa significa l'avere sempre di più e cosa significa avere sempre di meno, cosa vuol dire avere bisogno del pieno e cosa significa invece avere bisogno del vuoto. E abbiamo immaginato di incontrare persone che rappresentano queste due realtà, per cui riflettendo su cosa spinge la gente a correre fuori dai centri commerciali all'occasione del Black Friday e invece di che cosa spinge gli attivisti che vogliono impedire il consumismo a provare a fermarli. Prima di passare la parola al pubblico voglio sentire Andrea Romeo che cosa ci racconta di questa sua scelta e che cosa sapremo, qual è l'iter di questo film in Italia? Beh, ovviamente come i Wonder Pictures siamo onoratissimi della fiducia che gomò e che i registi ci hanno dato nell'affidarci questo film che è partito a Cannes l'anno scorso in qualche modo sui mercati internazionali ma che è arrivato in sala in Francia qualche settimana qualche settimana fa incontrando un pubblico tutta l'estate. Olivier e Rick hanno partecipato a 70 di 170 anteprime che sono state fatte in Francia, questo lo trovo un gesto straordinario di comprensione che le storie che vengono raccontate sono storie che vengono raccontate a qualcuno, che vengono raccontate a un pubblico e che gli autori devono partire dal pubblico e nutrirsi di un dialogo con il pubblico. In qualche modo il loro cinema ha la portata di essere un cinema subito classico, di essere un cinema che riesce a parlare di temi molto complessi e di, parlo di quello che è un grande classico della commedia in Italia ormai, il film in Italia si chiama Quasi Amici, molto diverso da Les Antusciables, ma è un film che ha fatto 15 milioni, è un film che è stato importante per il pubblico italiano e che abbiamo scoperto da un sondaggio dell'anno scorso essere la commedia più amata dai ragazzi che hanno tra i 17 e 21 anni in Italia, che lo hanno probabilmente visto in televisione nelle riproposizioni dove va sempre benissimo e perché questo? Perché in qualche modo nella loro attenzione al parlare di temi complessi allargando la possibilità in maniera inclusiva a un larghissimo pubblico, Enrique e Olivier hanno questa capacità, cioè la capacità di uscire dagli stereotipi ma di giocare con gli stereotipi come la commedia italiana ha sempre fatto per portare il pubblico per mano a godersi delle storie, a emozionarsi con delle storie anche impegnative e credo che questo sia una funzione principale del cinema e come publisher cinematografici ovviamente questo tema è un tema gigantesco, il tema della sostenibilità energetica del mondo in cui viviamo è un tema gigantesco, portarlo non a un piccolo pubblico che già conosce tutto ma a un grande pubblico attraverso la commedia ci è sembrato un film geniale e siamo molto contenti di fare questo lungo tour che ci porta domani a Milano in Tresale e poi a Bologna al Nuovo Modernissimo, poi a Roma e ancora poi alle giornate professionali di Sorrento martedì per chiudere a Firenze mercoledì prossimo. Però felicissimi soprattutto che il film apra e inauguri questo Torino Film Festival. Grazie, ci sono domande? Salve e buongiorno, Claudia Catalli, My Movies Alta d'estate. Ho trovato il suo film veramente geniale, raffinato e davvero intelligente. Dimostra come si può anche ridere dell'ecoattivismo necessario, urgente, insomma una tematica quanto mai attuale, importante. Quali paure avevate già in fase di scrittura, ovviamente nel sbaragliare tutto ciò che è politicamente corretto, quanto vi ha divertito e poi ecco quanto è importante saper far ridere anche su tematiche attuali che è anche un modo per riportarle all'attenzione di tutti, insomma. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, l'impression de creusere un sillon e questo sillon lato c'est la comedie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, non per qualsiasi. Un giorno si chiudere avvano un drame. D'ailleurs, un precedente film «Hor Norme» c'était un drame con un drame con un grame con un drame con un po' di domicile a un po' di drame con un grame. Ma prima cosa resta un film. ma penso che il più lungo tra un'uomo e un altro è il rio è il rio è il più lungo e il più lungo e il più directo allora sì, si attacchi a dei hyper suoi ma là, come lo faccio a ogni volta abbiamo inquietato è a dire che ci sono tre mesi con un movimento che si chiama l'Extinction Rebellion e abbiamo fatto delle action con loro, abbiamo stato recruti, abbiamo fatto delle action per comprendere loro combattere per essere a l'interior e per poterare bene a parlare e non avevano l'intenzione di se mocare o fare delle caricature c'è esattamente ciò che abbiamo visto ciò che abbiamo sentito e di l'altra parte per i personaggi di Albert e di Bruno abbiamo fatto dei atteggi di educazione budgietta perché sono a la limite veramente in una precarietà ma l'intenzione che ciò che ciò che di precarietà aumenta e abbiamo visto che ciò che sono più difficili che sono più difficili che sono benvenuti di fare due o tre boulots e di provare e quindi ciò si è amato con un conto ciò che vogliono 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 allora sì c'era a priori ciò che vogliono non c'è difficile d'en rire ma c'è c'è nostro chemin a noi c'è nostro chemin a noi perché noi siamo un po' come noi non ne sai più su quel pied danser il y a beaucoup di musica dans il film notamment una valse non ne sai più su quel pied danser non ne sai più qui croire ma c'è 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 che a un momento da un momento il va falloir avancer ensemble ma tutto ciò ha inspirato questo film quando si inizia un progetto in realtà non ci si chiede almeno nel nostro caso se si ha diritto di trattarne in un determinato tono se possiamo osare dire e fare delle cose ogni progetto naturalmente ha le sue caratteristiche e esige il suo tipo di narrazione però è vero che nel nostro dna sembra esserci un'inclinazione appunto condivisa da entrambe si è creato film dopo film uno stesso solco che noi ripercorriamo e che è quello della commedia da dove venga questa nostra inclinazione non lo so però forse un giorno faremo una storia drammatica per certi versi l'abbiamo già fatto con Ornorm The Specials fuori dal dal comune trattando appunto di una tematica molto delicata però il riso è il nostro marchio di fabbrica ed è secondo noi anche la strada più breve perché gli esseri umani possano entrare in comunicazione è la via più diretta che abbiamo per interagire gli uni con gli altri e per riuscire appunto a narrare questa storia e per poter rappresentare per quanto appunto in tono o da commedia gli esponenti di entrambe gli schieramenti abbiamo in realtà partecipato abbiamo fatto un lavoro di iniziazione con un gruppo che per tre mesi con un gruppo che si chiama Estinzione Ribellione la traduzione letterale di questo gruppo di attivisti e abbiamo partecipato appunto alla loro lotta condiviso i momenti le azioni le iniziative che hanno preso proprio per capire che cosa li motiva e come come agiscono senza nessun intento da parte nostra di deridere appunto le loro iniziative e i loro happening né di farne di farne una caricatura ma proprio con la preoccupazione di tratteggiare questi personaggi in modo corretto diverso è il caso appunto dei personaggi rappresentati da Albert e Bruno che appunto fanno parte di quella categoria che adesso frequenta questi corsi di istruzione budgettaria perché uno possa imparare ad amministrarsi perché queste persone arrivano a un livello di precarietà tale che non riescono più ad arrivare alla fine del mese per l'indebitamento che contraggono e sono costretti a fare due o tre lavori diversi e nonostante questo non riescono ad arrivare insomma a cavarsela quindi da un lato chi cerca di salvare il mondo e dall'altro chi cerca di salvare se stesso a quel punto perché sono queste due realtà che appartengono alla nostra società che sono in contrasto e naturalmente la differenza in queste due situazioni è quella di provare a riderne insomma a sorriderne quanto meno perché a un certo momento non si sa neanche più su quale piede poggiarsi per danzare e quale danza fare nei film c'è anche un waltzer per l'appunto per cercare di andare avanti in qualche modo perché vero è che noi dobbiamo cercare di contenere e di ridurre il nostro consumo di anidride carbonica e provare a far quadrare il bilancio del carbonio c'erano altre domande sì un microfono no non si sente no glielo puoi accendere il microfono credo che si sia spento il tema del ponte dalla moneta cosa vede vedo un ponte credo che in tutto il film ci sia questo tema il tentativo di stabilire dei ponti tra persone così come il cinema stabilisce dei ponti tra lo spettatore e chi crea e poi mi è piaciuto il fatto che si riesce a ridere dei difetti grandi o piccoli che tutti hanno difetti dall'ecoattivista all'educatore che credo per primo poi ha dei difetti ben insomma accentuati no che però nasconde ecco quindi c'è un respiro bonario sull'umanità che mi piace molto poi io credo che fare cinema divertente sia molto più difficile che fare cinema tragico quindi le faccio i complimenti volevo chiederle in realtà come ha gestito il finale cioè è stato un finale che è arrivato da solo ci sono state più soluzioni ha avuto difficoltà ecco un chiarimento sul finale allora c'è tutto è molto giusto in questo che vi dite tutto è molto giusto d'abord le pont c'è un'image c'è un'image in fait souvent quando on écrit on essaye di trovare dei concepti presque filosofi che le persone remarquano o non c'è non c'è non c'è ma c'è 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 a nous d'avoir une cohérence dans le sujet e c'è vrai che cette image du pont des fois ça arrive complètement inconsciemment quand on a remarqué comme ça sur les billets sur tous les billets qu'on a que vous avez dans vos poches j'espère que vous en avez beaucoup et ben il y a des ponts il y a des ponts pour relier les hommes les uns aux autres et d'ailleurs à la fin du film on les fait danser sur un pont et nous même on ne sait plus de quelle rive on est est-ce qu'on est sur la rive qui est derrière il va falloir régresser arrêter ce progrès comme ça la société on est constamment en train de progresser c'est un peu comme le concorde on pouvait aller à New York en trois heures et à un moment donné il y a un accident ça s'arrête donc est-ce qu'il faut retourner un peu en arrière ou il faut continuer d'avancer pour aller sur l'autre rive et dans quel état on va arriver sur l'autre rive donc c'est vrai que ce concept là du pont a jalonné comme ça tout le film et à un moment donné il y a même une scène où on en parle on en parle carrément sinon c'était quoi la suite le final la fin du film oui la fin du film elle est je parlais tout à l'heure de cette image des gens qui applaudissaient aux fenêtres oui c'est arrivé assez tôt dans notre idée comme une arnaque finale comme un mensonge final de ce Paris vide là il nous a vraiment inspiré évidemment on n'a pas tourné cette scène pendant le Covid donc on a dû on a dû recréer je ne veux pas spoiler mais il y a la scène de fin du film elle est dans Paris vide donc on a dû recréer ça et peut-être que vous connaissez la légendaire sympathie des parisiens ça a été compliqué de bloquer Paris mais on y a on y est parvenu et oui on a eu cette idée de fin elle est venue très tôt très tôt également aussi inspiré par un film allemand qui s'appelait Goodbye Lenin où à un moment donné il y avait comme ça un twist de fin ce film là nous avait fortement marqué donc là oui on avait envie de ça on s'était dit bon comme si il lui dit ben voilà le monde va mieux tout va bien pendant quelques minutes mais qu'en fait on sait très bien que le monde d'après qu'on nous a promis c'est le monde d'avant empire en fait donc c'est ce petit moment là de poésie d'ailleurs il y a certaines personnes à la fin qui interprètent complètement différemment cette fin en disant peut-être que c'est un rêve peut-être et ça nous va très bien comme on ne sait plus sur quel pied danser la fin elle est comme ça un peu un peu ouvert c'est un rêve c'est un rêve c'est un rêve qui nous guida et nous conduit à la fin de la scénage ci serve anche per così chiarire il pensiero della la struttura della narrazione il concept del film per riassumere più facilmente e in questo caso è stata proprio l'immagine del ponte che ha dato coerenza al soggetto ponte che fa parte della vita di ciascuno di noi anche in tantissimi biglietti scontrini tutto quello che abbiamo in tasca biglietti da visita sono ponti sostanzialmente perché sono dei richiami che ci ricordano come riusciamo a mettere in connessione le persone che conosciamo e questa questa danza sul sul ponte alla fine è quella che ci spinge a chiedere ma noi su quale sponda siamo non lo sappiamo più da che parte stiamo di questi di queste due rive del del ponte e ed è questo che accomuna l'essere umano noi immaginiamo il progresso come costante e continuo in futuro il concorde che ci permette di arrivare a New York per tre ore poi c'è un incidente e il concorde non esiste più quel progresso lì viene in qualche modo interrotto e ci costringe invece a riflettere su altre possibilità per far progredire per arrivare appunto sull'altra sponda e questa scena finale in qualche modo è una sorta di inganno finale perché naturalmente non è stata girata all'epoca del covid non sarebbe stato possibile però è un'immagine che richiama quel momento del lockdown e la Parigi così vuota era quella che c'era del covid ma non è quella che noi abbiamo girato e conoscete la simpatia dei parigini per immaginare la difficoltà che abbiamo avuto noi nel bloccare tutte le strade per rappresentare questa Parigi deserta una scena complicata da girare che ci è stata ispirata da un altro film che è stato Goodbye Lenin che ha questo capovolgimento finale che ci che è aperta varie interpretazioni come riuscire ad avere un mondo migliore te lo immagini per un istante poi ti rendi conto invece che il mondo di domani che tu speri che sia migliore è già stato progettato da altri in chiave peggiorativa e quindi insomma è un momento di poesia messo lì alla fine alcuni lo ritengono un momento onirico è una fine aperta grazie io avrei un'altra lista di domande ma purtroppo dobbiamo chiudere forse un'ultima dal pubblico mi pare che c'era ho sbagliato io no niente va bene allora grazie ancora grazie per la sua presenza grazie Andrea Romeo un boccalupo per il seguito delle proiezioni e grazie per questa presenza alle proiezioni che mi sembra un eccellente atto di resistenza grazie per la sua un amore infine per la sua la sua c'è per la sua l'amore la sua l'amore 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 la sua l'amore di mixità ethnica di mixità sociale e che l'amore l'amore c'è che di rire e avere des emotions con 200 persone o più c'è un formidabile medicamento e rien ne remplacera le emotions che abbiamo in una sala di cinese c'è per la sua che si 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 se si si e le persone che sono nella sala vorrei concludere riagganciandomi appunto all'immagine del ponte il nostro amore per la sala cinematografica è infinito per questo noi riteniamo che sia un luogo dove veramente creare i ponti è l'unico luogo forse che oggi esiste dove è possibile mescolarsi mescolarsi a livello sociale a livello etnico e ridere o provare delle emozioni in compagnia di 200 persone che non si conoscono è veramente una medicina straordinaria e noi continueremo a lottare perché questa realtà continui ad esistere quando scriviamo i nostri film pensiamo alla sala pensiamo che vengano visti in una sala e pensiamo a quello che potrebbe essere la reazione del pubblico e ancora una volta è un ponte tra la luce che proviene dallo schermo e il buio della sala del pubblico che vi assiste grazie 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 grazie